Ciao ragazzi, oggi parliamo di prestancaggio. Che cos'è il prestancaggio? È la miglior tecnica per lavorare sui gruppi muscolari carenti. In cosa consiste? Consiste nell'eseguire un esercizio di isolamento prima di un esercizio fondamentale. Prendiamo un esempio, il pettorale, facciamo fatica a far crescere il pettorale, dovremo eseguire prima l'esercizio di isolamento e poi la panca piana bilanciere, quindi successivamente l'esercizio fondamentale. Quindi serve per isolare il movimento, perché tendenzialmente il pettorale può essere che sia carente per mille motivi, può essere che magari il braccio interviene troppo, quindi la spalla interviene troppo, quindi lo isoliamo come un esercizio di croce, dopo che ci mettiamo a fare il nostro esercizio fondamentale.